tre libri uno per partire uno per viaggiare uno per tornare per partire sempre che si comincia un bel po prima di partire città in fiamme Mondadori Garthry Skalberg forse perché se devo pensare a partire penso di dover partire per la città che preferisco che New York e non credo di essere solo e questo romanzo racconta dal New York degli anni 70 la più mitica violenta e forse famosa quella del blackout del 12 e 13 luglio per viaggiare racconti di cinema raccolte in Audi curata da Maria Paola Pierini ed Emiliano Morreale che è una bellissima collettanea di racconti sul cinema di autori come Joyce Carol Ouz, Mario Soldati, De Lillo, Bolagno e per tornare Wes Anderson di Ilaria Feole, Vietti eterotopia forse perché tutti i film di questo straordinario regista sono film sulla famiglia, sulle case, le case di bambola, i posti dove a tutti quanti piace tornare. Arrivederci! Grazie a tutti!